Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi prepareremo una pasta velocissima ma veramente golosa. Per questa ricetta ho preso ispirazione dal canale di una ragazza che seguo tantissimo e che mi piace molto. Si chiama Anna Gloria. Per questa ricetta avremo bisogno di pomodorini, crema spalmabile tipo Philadelphia, lei ha usato lo stracchino ma io non lo avevo, olio di oliva e sale. Ho già messo a bollire l'acqua e adesso andiamo a preparare il sughetto. Inizio col preparare un soffritto semplice con aglio e olio, taglio poi i pomodori a pinzetti e li unisco successivamente al soffritto. Proseguo poi col mettere i pomodorini senza l'aglio che ho precedentemente tolto, due cucchiai di olio e la sinistra in un recipiente e frullo poi per bene. L'acqua bolle, butto la pasta e l'amalgamo poi al mio sughetto. Et voilà, la pasta è pronta. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse iscrivetevi. Ciao!